e ben ritrovati di nuovo su review vi vado a mostrare al volo questo tappetino da yoga della decatron mi lascio il link in descrizione di questo tappetino ma anche di altri tappetini che vendono su amazon così potete dare un'occhiata perché l'ho acquistato perché il prezzo davvero competitivo era quello che costava meno e questa è l'indicazione ovviamente del modello ma ve lo riporterò anche nel titolo come vedete lo spessore è un 4 mm dipende ovviamente dallo spessore della lunghezza il fattore prezzo quindi varia anche in base a questo abbiamo una dimensione d'aperto di 172 x 58 cm 0,45 kg ed è un tappeto semplicissimo da yoga come vedete lo spessore è comunque contenuto e vi permetterà di fare pilates yoga ma io l'ho acquistato semplicemente per gli esercizi a terra per la mia home gym visto che quello che avevo prima si stava un po' sfaldando la plastica cominciava a sgretolarsi speriamo che questo qua duri ve lo faccio vedere c'è la parte quadrettata da questa parte e la parte liscia il colore non è nero è un verde verde scuro un verde griggino non è proprio nero spero che renda dal dalla videocamera comunque leggero ve lo portate dietro anche se dovete fare yoga al lago in montagna e lo userò fondamentalmente per quello che è come vi dicevo gli esercizi a terra nella mia home gym questo è quanto se avete qualsiasi domanda non esitate a pormela iscrivetevi al canale perché usciranno nuovissime recensioni e se vi va lasciate un like alla prossima review grazie